mother grizzly potente disponibile nelle misure da 5 a 10 metri questa canna la possiamo identificare soprattutto nelle misure che vanno dalla 5 alla 8 metri come un attrezzo all round infatti possiamo apprezzare l'azione tipica di una bolognese strong nelle misure più lunghe quindi nella misura di 10 metri abbiamo un attrezzo un po più specifico per il torrente ma che mantiene comunque buone caratteristiche di sensibilità maneggevolezza e velocità nella ferrata oggi abbiamo tra le mani la 7 metri accessoristica di primordine per questa canna con placca fuji sfls 6 abbiamo gli anelli di ultima generazione intorsite anelli molto robusti anelli fugi molto robusti e adatti quindi per la pesca in torrente questa canna può essere utilizzata con successo nei larghi fiumi di fondo valle pescando a pendolino o a spirale pescando al lancio però possiamo sfruttarla anche nel piccolo torrente di montagna perché la 7 metri in questo caso ha ben 4 blocchi in neoprene ben posizionati e fissati all'interno della base della canna un attrezzo indovinato un attrezzo che denota ancora la qualità del marchio maver e soprattutto elogia il team fatto da Carlo Bergamelli pluricampione della disciplina trota torrente